Ciao da Francesco Nano, bentrovata o bentrovato su scuolasuono.it Con questo video desidero farti una video proposta. Scuolasuono.it infatti, come tu ben sai, l'ho definito il portal network dell'informazione tecnico musicale condivisa tra musicisti. Ebbene, io ho bisogno di trovare persone, collaboratori, per realizzare un team di videorecensitori, cioè di persone che fanno la videorecensione dei propri ferri del mestiere. Vi spiego meglio. Se tu sei un chitarrista e quindi possiedi una chitarra elettrica, un ampli, un amplificatore, oppure se sei un batterista e hai una particolare batteria acustica o elettronica, ebbene, potresti decidere di realizzare una videoguida, molto simile a quelle che già trovi abbondanti nella sezione audio e recording, per condividere con gli altri amici di scuolasuono.it quello che è la tua esperienza e il tuo punto di vista sullo strumento che stai suonando. Ancora meglio, se possiedi un microfono o se utilizzi dei plugins o del software musicale, potresti realizzare delle videorecensioni direttamente senza neanche utilizzare una webcam o una videocamera creando delle slide oppure registrando il monitor del computer. Insomma, l'obiettivo che si propone scuolasuono.it, almeno quello è il target che mi piacerebbe raggiungere, sarebbe quello di realizzare un mega database, passami il termine, mega database di videorecensioni su tutti i prodotti musicali, quindi su strumenti, su outboard, su hardware per la registrazione, qualsiasi cosa abbia a che vedere con la musica, ebbene se tu ce l'hai, se fa parte del tuo parco macchine, se fa parte dei tuoi ferri del mestiere, ebbene sei invitato a condividere la tua esperienza con questo strumento anche con gli altri amici di scuolasuono.it. Perché dovresti aderire? Beh, innanzitutto per far parte del team di videoformatori o di videorecensitori, come li vogliamo chiamare, di scuolasuono.it. Più recensioni farai, più pubblicità ti farai. Perché no? Se sei un musicista, se stai cercando una band, se hai una band, hai un sito da pubblicizzare della tua band, se sei uno studio di registrazione, se magari hai a disposizione dell'attrezzatura, se sei un home studio, ebbene in tutti questi casi ti potrebbe tornare utile, insomma avere una certa visibilità su web. Più videoguide, più videorecensioni riuscirai a realizzare e più pubblicità avrai, diciamo, creato anche per la tua attività. Ovviamente come sai puoi personalizzare anche la tua pagina profilo e quindi da lì inserire dei video e delle informazioni in più per contattarti. L'altro motivo importante che ti dovrebbe addirittura non far pensare se aderire o no, ma direttamente aderire, è il fatto che dietro alla realizzazione di queste videoguide c'è un trattamento anche di tipo economico. Ovviamente tutto in maniera legale, però per maggiori informazioni ci sentiamo eventualmente a voce con me o con il mio staff. Dunque, anche in questo caso, più videoguide realizzerai, maggiori saranno le tue pagine, le tue pagine in cui sarai presente su scuolasuono.it, più persone ti vedranno, maggiore sarà la tua possibilità e maggiori saranno anche le possibilità di compensi economici. Detto questo ti invito a compilare immediatamente il modulo che trovi qua sotto per inoltrare la richiesta di partecipazione per entrare a far parte del team di videorecensitori di scuolasuono.it. Ciao da Francesco Nano, ci vediamo all'interno di Scuola Suono e navigando questo sito. Ciao!